Ehi vice! Sto ricevendo un segnale! Apri la mappa e ti dico cosa sto sentendo! Partiamo dalle basi. Usa lo zoom per ridurre la mappa e vedere tutta la contea. Pop County si divide in tre regioni. A nord abbiamo i monti Whitetail. Lì comanda Jacob Seed, il fratello maggiore di quella cazzo di famiglia. Jacob a destra la setta ed è molto bravo a fare il suo lavoro. I Lai e la milizia di Whitetail cercano di creare una resistenza ma Jacob è sempre pronto a schiacciare i loro sforzi. A sud-est c'è Lambain River, è il territorio di Fate, la loro sorellina. Ho sentito storie assurde di gente che perde la testa in un luogo chiamato Il Gaudio. A Avest invece c'è Holland Valley. John Seed è arrivato e ha iniziato a prendersi tutto nel nome della setta. Cibo, scorte e nei casi più gravi anche persone. Ricevo molte chiamate da tutta la contea. Ti terrò aggiornato con tutte le informazioni utili. La nebbia dovrebbe diradarsi, il che significa che puoi lasciare l'isola. Pazienta, non ci vorrà molto. Oh merda! Vige, sto ricevendo cattive notizie da Holland Valley. Una trasmissione di John. La devi vedere. Siamo dei peccatori. Tutti peccatori. Voi, io. Persino il padre conosce in profondità il peccato. È un veleno che ci annebbia la mente. E se vi dicessi che potete liberarvene? Se vi dicessi che i vostri sogni si possono avverare. Se vi dicessi che ogni ostacolo può essere superato con un pensiero. Un'idea. Che la libertà dal peccato si ottiene attraverso il potere di una semplice parola. Sì, sono un peccatore. Sì, desidero essere liberato. Sì, desidero essere redetto. Se adesso state guardando, sappiate che siete stati selezionati. Verrete purificati e confesserete i peccati. Così vi verrà offerta la redenzione. Non temete. Non c'è niente che dovrete fare. Saremo noi a venire. Benvenuti all'Eden's Gate. Oh, merda. John Seed ha preso la tua collega Alson. È nella merda fino al collo. Devi liberarla.